Allora, eccoci con Matteo Salvatore, porterone della Spagna, una super partita tua e di tutta la squadra. Un commento appunto su questa seconda giornata di campionato. Siamo soddisfatti dell'impegno messo in campo da ognuno di noi. Siamo un po' amareggiati per il risultato. Un pareggio che se fanno ore agli avversari perché hanno giocato veramente bene. Forse è stato un po' vittima della loro panchina lunga che nel secondo tempo il fiato dei ricambi si è fatto sentire. Noi siamo andati un po' sotto botta, però abbiamo retto bene da squadra, abbiamo saputo reagire anche al momento di difficoltà. Alla fine abbiamo trovato un pareggio che diciamo che ci accontentiamo. Per Lielo e l'avversario va bene questo pareggio così. Un'ultima domanda te la voglio fare. Ma c'è un obiettivo nel caso che vi siete prefissati per questo torneo? Oltre il solito divertirsi, poi magari puntate a qualcosa. L'obiettivo è venire qui, dare tutto, essere un gruppo di amici che lo dimostra in campo e fuori, divertirsi e basta. Cioè è solamente questo. Senti, allora ancora bravissimo per oggi e un bocca al lupo per continuo. Ok, grazie.